La legge va applicata, tra l'altro non conosco le carte, posso dire soltanto che ogni evento doloroso porta sofferenza. Dagli eventi dolorosi non c'è nessuno che può trarre giovamento o soddisfazione. La legge va applicata, anche quando è dura la legge va rispettata e va applicata. Io mi auguro, perché naturalmente non c'è nessuna sentenza definitiva, c'è un avvio semplicemente dell'indaggio, io mi auguro che tutto possa ritornare nella norma e che quindi anche la provincia si possa mettere in moto di nuovo per dare risposte ai diritti dei cittadini della nostra provincia.